Festival internazionale della storia vi dà il benvenuto nella tenda API. Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Associazione Italiana Editori, promosso dal Comune, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, assessorato al turismo, alle attività produttive e assessorato alla cultura, dalla provincia di Gorizia, assessorato alla cultura, dalla fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dalla Camera di Commercio, da Friuladria Credit Agricole, dalla PT Gorizia, dall'Unione Industriali e dall'Associazione dei Commercianti, dal Cabe Center e da Radio 24, il festival è organizzato dall'Associazione Culturale Estoria. Siamo qui per l'incontro, l'unità ad ogni costo, l'Italia 1859. Le vicende della Seconda Guerra d'Indipendenza Italiana portano al primo cospicuo successo militare in vista dell'unificazione. Gli aspetti bellici e diplomatici vanno tuttavia considerati insieme alle temperie culturali del momento e agli elementi propagandistici di comunicazione di massa, posti forse per la prima volta al servizio della patria. Intervengono Quirino Principe, Lucy Royal e coordina Gian Paolo Carbonetto. L'incontro viene preceduto da un ricordo omaggio alla memoria di Franco Volpi da parte di Quirino Principe. Buongiorno, care amiche e cari amici. Sono certo che molti di voi ricorderanno che proprio sotto questa tenda e più o meno in questi giorni di maggio faceva meno caldo, pioveva. È molto diverso, molto diverso il clima. Speriamo che sia stata raccontata, almeno ai tempi miei, a scuola. Una storia molto parziale, molto imbevuta di un patriottismo di maniera che poi finiva non soltanto per traviare certi aspetti, ma finiva soprattutto per sfrondare moltissime cose che di quella storia erano non soltanto parte integrante, ma parte determinante. Senza il clima culturale di quegli anni, molto probabilmente lo stesso patriottismo sarebbe stato diverso o addirittura avrebbe potuto non nascere in qualche maniera, o essere molto più anacuato o molto più feroce, a seconda di quello che avrebbe potuto succedere. Oggi, con l'aiuto della professora Eyal e del professor Principe, cercheremo di vedere questo 1859 non soltanto nella sua assenza, ma anche da punti di vista leggermente diversi e quindi ottimi per illuminare meglio alcuni aspetti di una storia che va sicuramente meglio conosciuta. Professore Sarai, lascerei la parola a lei per prima. Grazie. Funziona? Sì. Buongiorno. Io, siccome l'italiano non è la mia prima lingua, ho un po' gli appunti, ma cercherò di non leggere il testo. Comunque vorrei incominciare per dire che la guerra del 1859 fra il Piemonte e la Francia da un lato e l'impero austriaco da un altro è scoppiata quasi esattamente 150 anni fa. in aprile del 1859. Quindi hai anche un momento per riflettere su questi avvenimenti. E anche perché con la distanza di 150 anni, queste vicende possono sembrare lontano come l'antichità. Cioè è una cosa proprio di altri tempi che non ci interessano più, non ci riguardano più, che non sono più interessanti. o comunque, come è stato già detto, comunque meno importante di quello che è successo l'anno dopo, nel 1860, con la spedizione di Garibaldi nel sud Italia e con l'unificazione italiana. Ma secondo me sottovalutare, e questo è il mio punto di partenza di oggi, sottovalutare le vicende del 1859, alla guerra del 1859, sarebbe un errore. Sarebbe un errore sia per la sua importanza politica, che secondo me è abbastanza grande o significativa, che per quello che vogliamo dire, la sua modernità culturale. E io cerco in tipo 15 minuti di spiegare tutte e due le cose. Allora, la sua importanza politica, in un certo senso è una ed è fondamentale, e la sua importanza politica, perché la guerra del 1859 porta alla sconfitta militare dell'Austria. Ed è questa una sconfitta storica, che prevede la sconfitta, diciamo, più famosa durante la guerra fra l'Austria e la Prussia del 1866. E questa guerra del 59, con la sconfitta dell'Austria, segna, in un certo senso, segna l'inizio della decadenza dell'impero austriaco, la decadenza soprattutto nella politica internazionale. Io non sono veramente d'accordo che dal 1859 fino al 1918 c'è una decadenza politica, c'è una cosa di declino che non si può cambiare. Anzi, mi sembra che la storia dell'impero austriaco, dopo il 59, ha molto interesse. C'è una storia che va raccontata. Ma quello che è chiaro è che dopo il 59, nel mondo diplomatico, nel mondo internazionale, l'impero austriaco non è più lo stesso, non ha più l'importanza che aveva prima. E questo è importantissimo, perché prima del 59, l'Austria era la prima potenza internazionale della parte dei conservatori, quindi era veramente il blocco conservatore nell'Europa, che ha bloccato fondamentalmente le rivoluzioni del 48-49. Con la sconfitta, tutte le potenze conservatorie nell'Europa non hanno più questa garanzia. E inoltre, dopo il 59, si vede fondamentalmente la nascita, nel mondo diplomatico, dello Stato-nazione. Sembra che il futuro appartiene, nelle relazioni internazionali, allo Stato-nazione. Quindi anche se non è veramente vero che è la fine definitiva dell'Austria dopo il 59, sembra che sia così. E non è un caso che il famosissimo romanzo di Joseph Roth, La marcia di Radetzky, inizia con la battaglia di Solverino nel 59, perché simbolicamente è comunque molto importante. Come sapete tutti meglio di me, la guerra del 59 porta ad una formazione di un nuovo Stato in Italia, composto inizialmente dal Piemonte e dalla Lombardia. Della primavera del 1860 in poi, questo Stato si allarga ed è composto anche dai antichi Stati di Parma, Modena, Toscana e la Romagna. E questa prima unificazione fra centro e nord Italia è il risultato di una serie, non soltanto della guerra, ma di una serie di rivoluzioni in centro Italia, soprattutto in Toscana, quella più importante è Toscana. E tutte queste rivoluzioni sono rese praticabili, cioè possibile, della decadenza nella peninsola italiana del potere austriaco, perché l'impero austriaco proteggeva i vecchi sovrani di questi Stati, quindi nel momento che l'Austria è sconfitta non può più proteggere questi Stati e ci sono rivoluzioni. Allo stesso tempo, questa decadenza del potere austriaco destabilisce, vogliamo dire anche, indebolisce profondamente anche gli altri due Stati nella peninsola italiana, cioè lo Stato pontificio e il regno delle due Sicilia. Infatti, in certo senso, la crisi più grave nel 1859 in poi è la crisi della Chiesa Cattolica, o meglio, la crisi del potere temporale del Papa. E questo è un avvenimento storico di grandissima importanza. E questo pure è causato della sconfitta dell'Austria. Infatti, se uno legge la stampa, la stampa tedesca, la stampa francese di quest'epoca, parlano fondamentalmente, cioè soprattutto, di quali sono le importanze di questi avvenimenti per la Chiesa Cattolica. Inoltre, questa debolezza politica e diplomatica è un fattore non minore nel successo di Garivaldi nell'estate del 1860 nel sud. Perché senza l'isolamento ormai totale del regno delle due Sicilia, quello che lui ha fatto non sarebbe stato possibile. Infine, questa è l'ultima cosa sull'importanza politica delle vicende del 59, dobbiamo anche ricordare, c'è una cosa che, ripeto, voi tutti sapete senza dubbio, perché Garivaldi decide di portare avanti la spedizione in Sicilia, che infatti non era un grande entusiasta di questa spedizione prima di andare, non era convinto per tanto tempo. Lo fa, fa la spedizione, è d'accordo nel fare la spedizione, perché è infuriato per l'accessione alla Francia di Nizza, la sua città natale. E questa decisione è una decisione presa da Cavour in cambio del sostegno francese, prima per la guerra del 59 e poi per l'unione del Piemonte e Lombardia con Parma, Modena e Toscana. Quindi, anche questo è il risultato, in certo senso, della guerra del 59. Tutti questi avvenimenti, dunque, sono legati alla guerra del 59 e alla sconfitta dell'Austria. E quindi possiamo dire che l'unità d'Italia sarebbe stata impossibile senza questa guerra, è l'esito soprattutto di questa guerra. però potremmo anche pensare su tutto quello che ho detto finora, che si tratta soltanto di una questione, diciamo, di alta politica, di diplomazia, di una guerra, di annessione fatta dal Piemonte o comunque delle manovre politiche dei leader politici. Ma anche se questo è vero, cioè è anche questo, sarebbe uno sbaglio parlare, quando si parla della guerra del 59, parlare soltanto di alta politica. Perché la guerra, per il bene e per il male, e possiamo discutere su di questo, fu accompagnata da un'importante e evidente ondata di entusiasmo patriotico. Per esempio, l'agitazione nazionalista in Nord Italia porta ad un boicottaggio di tabacco in funzione anti-austriaco a Milano e a Parma, quindi non soltanto nella rivoluzione del 48, ma di nuovo nel 59. Vediamo questa specie di espressione anti-austriaca. Vediamo la comparsa di slogani e manifesti nazionalisti in molte città del Nord e dimostrazione patriota nei teatri e nei altri luoghi pubblici. In Pavia, per esempio, l'università viene addirittura chiusa per l'agitazione dei studenti in favore dell'Italia e contro l'Austria. Ma forse l'indicazione più importante e significativa della diffusione in quest'anno dell'entusiasmo patriotico fu la corre dei uomini da fuori dal Piemonte per arruoloarsi come volontari per la guerra, in vista della guerra. Infatti, fra la metà di gennaio 1859 e la fine di marzo 1859, quindi fra tre mesi, arrivavano a Torino fra 15.000 e 20.000 uomini che vogliono presentarsi come volontari. vennero anche aperte sottoscrizioni alle quali la gente contribuì generosamente. E questa dimostrazione di fervore patriotica non è una cosa facile, non è in questo epoco, è difficile e anche pericolosa per questi uomini arrivare in Piemonte, rischiano di imbattersi contro la polizia per esempio alla frontiera, rischiano di farsi arrestare. Per di più, da quanto si risulta dei archivi, dei documenti di queste persone, non sono soltanto giovani o studenti senza nulla da perdere. Sono spesso uomini sposati con famiglie, sono professionisti, sono avvocati, sono giornalisti e quindi avevano molto da perdere e poco da guadagnare facendosi volontari per la guerra contro l'Austria. E questo movimento dei volontari è una delle più, secondo me, una delle più grandi dimostrazioni nazionaliste del risorgimento. Crea grandissimi problemi a Cavour e al governo piemontese che in fin di conto non vuole, vuole una piccola dimostrazione ma non vuole che tutti questi uomini vengano a Torrina a presentarsi come volontari e impone un carattere nazionalista agli avvenimenti che per il governo piemontese è difficile a controllare. Questa è, secondo me, la seconda cosa che bisogna rendersi conto che c'è comunque una grandissima onda patriotica in quell'epoca da alcune parti della peninsola italiana. Infine, questa è l'ultima cosa che voglio dire, vorrei anche insistere sulla modernità degli avvenimenti del 1859, soprattutto la modernità nel campo della mass media, perché secondo me la guerra del 1859 è anche una delle prime guerre mediatiche. È più importante della Crimea perché comunque viene alcuni anni dopo quindi già c'è uno sviluppo ulteriore della mass media e secondo me è più diffusa, più conosciuta, più seguita dal pubblico dalla guerra di secessione americana che avviene cinque anni dopo, quattro anni dopo. Infatti dal 1859 in poi la stampa diventa una parte integrante della guerra. Vi leggo soltanto una citazione che è dal Times di Londra del giugno 1860, quindi infatti sta facendo un commento sulla guerra nel sud Italia. Dice così ora scrive il Times ora le battaglie le battaglie vengono combattute in un'arena sotto lo sguardo in senso figurato di un pubblico interessato di cento nazioni. Il duello fra Garibaldi e il vicere napoletano quindi la guerra nel sud si svolge sotto gli occhi di corrispondenti di giornali turisti artisti simpatizzanti inglesi o americani. E quindi la guerra del 1859 in Italia fa registrare un nuovo tipo di coinvolgimento del pubblico e dei mezzi anche di comunicazione negli eventi militari. c'è effettivamente un'enorme domanda popolare di informazione e di giornali e questa domanda fu reso possibile e alimentata dei recenti progressi nel campo della comunicazione e dell'editoria. Allora l'importanza della fotografia nel promuovere una diffusa conoscenza di questi conflitti è una cosa ben nota ma secondo me l'elemento che più direttamente contribuisce a spiegare l'ampia copertura di questa guerra del 59 non soltanto in Italia ma anche in Francia in Germania in Gran Bretagna e negli Stati Uniti fu lo sviluppo del telegrafo che permette agli inviati di trasmettere ogni giorno e anche più di una volta al giorno volendo il loro articolo ai giornali nei altri paesi e in questo contesto fu la compagnia telegrafica Reuter che è fondata nel 1851 dal barone Julius Reuter che trasmette le notizie delle battaglie e di spacci militari a tutta la stampa europea che svolge un ruolo cruciale a dare fama a questa guerra e fornisce regolarmente coppie di spacci documenti ai giornali quindi fin dall'inizio del conflitto gli sguardi dell'opinione pubblica straniera si concentrano sull'Italia e ogni battaglia in particolare la battaglia di Solverino ottene l'onore della prima pagina per esempio il corrispondente del New York Times trasmette dettagliati resoconti degli eventi il giornale pubblico ha anche tutti i giornali il New York Times The Times Illustrated London News l'illustrazione di Parigi e così via pubblicano cartine del campo di battaglia pubblicano anche immagini dei paesaggi e anche altri estratti di altri giornali quindi è una specie di enorme quantità di informazione sulla guerra c'è anche un vasto interesse del pubblico per esempio in Gran Bettagna un giornalista un giornalista anglo-italiano che si chiama Charles ovviamente Carlo ma si fa chiamare Charles arriva bene parla in un articolo della presenza di turisti britannici su campi di battaglia vicino a Brescia soprattutto a Solverino e lui scrive così dice i uomini scrive arriva bene erano carichi di ogni sorta di proiettili e armi che si sono raccolti sono anche comprati come souvenir dei contadini vicino a Solverino Solverino le signore invece si accontentavano di raccogliere sassi fiori e rametti di albero come ricordi dei luoghi che avevano visitato come diceva proprio un raccoglimento di souvenir delle battaglie e infatti poi dopo si vede il livello del coinvolgimento del pubblico nella guerra è indicato anche della produzione come oggetto di consumo di souvenir per esempio infatti che uno va a qualsiasi museo del risorgimento in Italia uno può vedere questi oggetti piatti sciarpe ventagli medaglie che sono comprate dal pubblico come ricordo della guerra del del 59 e comunque ora finisco l'ultima cosa che vorrei dire è che si vede anche in molti dei giornali si pubblicano anche album per esempio soprattutto in Italia e in Francia album che vengono pubblicati in diversi parti che il pubblico può collezionare con sempre scene di battaglie ma anche ritratti dei principali protagonisti e quello che si vede là che da lontano il personaggio più importante è lo star se vogliamo della guerra come spettacolo è Giuseppe Garibaldi vediamo immagini di Garibaldi sono posti alla prima pagina di tutti i giornali illustrati in Europa e in America in più giornalisti e illustratori per riviste e giornali in Francia in Gran Bretagna e altri vanno diciamo dietro le linee negli Alpi in montagna per ottenere interviste a Garibaldi secondo per esempio illustratore parigino siamo stati ben compensati per la difficoltà che abbiamo affrontato per raggiungere Garibaldi dall'amichevole accoglienzo del generale e di una mensa gentilezza o come scrive un corrispondente del Times non ho grande inclinazione per il culto degli eroi ma ho appena percorso 150 miglie per stringere la mano a Garibaldi e quindi la guerra del 59 crea l'immagine definitiva dell'eroe in cui il coraggio e le imprese eccezionali di un lato si uniscono dall'altro con la gentilezza la modestia dell'uomo e che forma una specie di quintessenza dell'eroe democratico moderno va bene io concludo con questo quello che sto cercando di dire in questo è che fondamentalmente l'importanza soprattutto l'importanza politica degli avvenimenti poi comunque l'impatto dell'entusiasmo patriotico sugli avvenimenti e poi infine l'importanza della guerra del 59 sulla nascita di un nuovo modo di vedere e di scrivere la guerra con la guerra del 59 la fantasia la voglia di evadere l'intrattenimento del pubblico viene legata alla guerra la guerra che è fra gli atti più brutali e violenti che è stata inventata da noi umani quindi c'è qualcosa insomma che è stato creato c'è bisogno di creare questa cosa che la guerra è una cosa bella di fantasia e questo secondo me è stato in parte l'opera dei giornalisti o più precisamente nasce di un'unione un'unione anche felice in certo senso comunque per loro fra politici da un lato e giornalisti dall'altro così la stampa e la stampa popolare la nascente mass media se si può dire diventa un elemento permanente della guerra cioè la guerra ormai non sarebbe niente senza l'opera dei giornalisti e anche che in questo vediamo l'importanza e la modernità della guerra del 59 grazie dopo questo primo escursus molto ricco di di spunti e di osservazioni altri punti di vista ci saranno dati dal professor Quirino Principe non posso mancare di sottolineare l'uso stupefacente della lingua italiana da parte della nostra collega un applauso grazie grazie in un'epoca di sfrenato anglismo ecco in cui ricordo recentemente un ingegnere che spiegando l'Expo di Milano diceva vedete il core del problema riguarda le locations che noi cominciò così eccetera mi si allarga veramente il cuore o quello che lo sostituisce grazie dunque il tema di questa annata di storia è patria e patrie meditavo ieri in treno perché è bene partire dalle parole dalle parole che come noto sono dei segnali dei segnavia quanto sia diversa per esempio l'accezione della parola tedesca Heimat noi siamo in una zona intermedia borderline tanto per fare un po' di anglicismi una zona di confine culturale politico storico e quindi parlare diciamo della lingua tedesca significa parlare di una grande lingua franca che è stata la lingua della metolo Europa nei momenti più alti come oggi per esempio l'inglese invece a livello planetario e quindi tra patria e Heimat si nota subito una differenza fondamentale patria è parola che allude ad un legame biologico pater pater in greco pater father nelle lingue germaniche e quindi secondo una mentalità diciamo latina neolatina è qualcosa di carnale quasi di tribale senza nessuna eccezione negativa è la terra di mio padre del padre di mio padre in una linea maschilista naturalmente è chiaro laddove Heimat è legata al concetto di Heim che è il concetto di casa cioè qualcosa che indica semmai la convivenza iniziale che poi si allarga ad una generale convivenza civile so benissimo che la differenza è poco più di una sfumatura però quando c'è un piccolo angolo la distanza angolare è piccola ma i lati dell'angolo sono cosmici la distanza tra i due punti terminali dei segmenti diventa immensa e incalcolabile quindi basta poco la differenza c'è ed è secondo me molto sensibile molto notevole per quanto riguarda la vicenda italiana del 1859 che è stata indubbiamente condotta da una elite consapevole molto consapevole ma da un'elite sul concetto più di patria come è giusto che non di Heimat cioè la fratellanza tra noi italiani ricordate quando uscivano le opere di Verdi negli anni 40 o nei primi anni 50 Verdi non aveva voglia poi di di essere un grande compositore patriotico contrariamente a quanto è stato detto ma lasciava fare i suoi librettisti quali disseminavano i libretti di piccoli ganci emotivi di allusione per esempio quando in Ernani cioè il coro si ridesti le opere di Stiglia sappiamo bene che il pubblico aspettava impaziente che si arrivasse al verso che fa rima siamo tutti una sola famiglia e gli esplodeva l'applauso era il successo assicurato ed era anche una forma di propaganda politica svolta intelligentemente attraverso qualcosa di intelligente cioè un'opera di teatro musicale non un manifesto non un comizio però certamente noi sappiamo che è un po' difficile parlare per esempio di etnia comune che cosa sono poi le etnie parlando di italiani sappiamo che non esiste affatto una storia comune che sono più o erano allora più numerosi gli elementi che dividevano che distinguevano gli italiani da altri italiani cioè un elemento fondamentale prima l'allusione scherzosa ma non tanto che mi sono permesso di fare torna torna ad attualità esiste prima la lingua italiana e poi esiste l'Italia non avviene il contrario la lingua italiana è per molto tempo l'Italia quando Dante Alighieri scrive il De vulgari eloquenzio scrive la commedia di italiano c'è la lingua che poi non è una lingua parlata in atto ma è una lingua possibile è una lingua colta una lingua illustre cioè lustrata ripulita da ciò che rende le differenze dialettali le distinzioni anche tra parti diverse d'Italia quindi fu un'impresa particolarmente ardua l'altra osservazione iniziale è che tra la prima guerra d'indipendenza e quindi direi piuttosto i moti di cui la prima guerra d'indipendenza fu un elemento un elemento di vertice un elemento di riferimento ma forse più interessanti della guerra combattuta secondo criteri strategici e tattici logistici organici giusti ecco da un esercito eccellente come era l'esercito del regno di Sardegna però piccolo e quindi con un potenziale bellico limitato ecco furono i moti che invece nella seconda guerra d'indipendenza non è che mancassero ma ebbero mi sembra un ruolo indubbiamente minore anche perché era stata molto grande nel decennio cosiddetto di preparazione l'attesa che fosse veramente di nuovo il regno di Sardegna a prendere l'iniziativa il decennio di fervida attesa di speranze quindi per quella elite naturalmente che mirava all'unificazione politica d'Italia la guerra del 48 e i moti che ne furono la premessa mi sanno assai più di guerra di popolo cioè di guerra insurrezionale di quanto non sia stata la guerra del 1859 i cui risultati e qui correggetemi se sbaglio in notevole parte furono frutto di sottili equilibri diplomatici anche il fatto per esempio che l'ondata d'urto che l'esercito del regno sardo riuscì a produrre sospinta anche dalla massa d'urto dell'esercito mandato da Napoleone terzo si sarebbe potuta estendere a tutta l'Italia settentrionale e quindi certamente al Veneto se non ci fosse stata una censura diplomatica da parte di uno stato terzo cioè da parte mi sembra della Prussia preoccupatissima di una eccessiva riduzione territoriale dell'Austria e soprattutto di una eccessiva espansione di quello stato di quella potenza contro la quale la Prussia avrebbe regolato i conti 11 anni dopo nel 1871 il popolo credo che abbia avuto i moti diciamo diretti la rivolta credo che abbiano avuto nel 59 veramente un ruolo minore potrei dire senza offesa per nessuno che il primo la prima fase di questa vicenda durata tre anni 1859 60 quello che si diceva prima cioè l'estensione quasi per corrente indotta l'estensione del fenomeno a aree dell'Italia centrale quelle sì veramente dirette veramente decise a assumere l'iniziativa e poi naturalmente l'impresa di Garibaldi che ha tutte le caratteristiche di una impresa insurrezionale di una di una mossa propulsiva la quale genera altre mosse e contromosse anche a livello europeo qualcosa di simile fra l'altro noi italiani indubbiamente non soltanto come tutti gli europei tendiamo ad essere eurocentrici ma siamo anche occidento eurocentrici nell'Europa orientale ma non tanto orientale nel 1859 avvenne un fenomeno di indipendenza e di piccola unificazione non è che per noi forse secondario ma per una nazione molto importante anche numerosa non lo fu cioè la nascita di uno stato chiamato Romania uno stato cristiano nato in contrapposizione come l'Italia incominciò a formarsi in contrapposizione di questo grande blocco politico singolarissimo e irripetibile che non ha l'uguale nella storia europea per i suoi caratteri che fu l'impero diciamo degli Habsburgo è forse più corretto dire l'impero degli Habsburgo insistendo sul carattere diciamo dell'unificazione di territori come territori legati alla personalità di un sovrano comune più che dire l'impero d'Austria poi saremmo costretti a dire l'impero d'Austria però con i domini ereditari in che senso in che senso l'Austria l'impero d'Austria-Ungheria dopo l'Ausgleich del 1867 è meglio dire più corretto dire l'impero Habsburgico ecco così la Romania incominciò a costituirsi lentamente in contrapposizione a un altro impero che incominciava la sua marcia verso il declino cioè l'impero ottomano questa fu una delle conseguenze dei contraccolpi l'unificazione dei due principati di Moldavia e Valacchia della guerra di Crimea cioè una forma di riequilibrio di ciò che era avvenuto alla Turchia la quale era stata gratificata dalla sconfitta russa ma non doveva essere gratificata troppo c'è una specie di simmetria tra l'aggiunta all'annessione della Lombardia al Piemonte Liguria Sardegna i vecchi domini dei Savoia e l'unificazione di questi due piccoli principati ecco è una specie di specchio da una parte all'altra dell'Europa io come devo giustificare il mio intervento è difficile giustificarlo poiché io mi trovo accanto a due storici di professione storiografi di professione e non lo sono io mi sono sempre occupato a parte un argomento specifico che è la musica e le arti il rapporto tra musica e arti la filosofia della musica mi sono occupato di quello che si chiama idee o culture di storia delle idee ecco per cui io mi sono limitato in questo mio intervento a cadere così al volo come una specie di avvoltoio dove di trovare una metafora più brutta più sgradevole per me così un brutto uccellaccio di malaugurio su alcune realtà un po' occulte un po' nascoste io ho una grande passione oltre che un grande rispetto per la cosiddetta storiografia materiale mi appassiona moltissimo ricordo di avere veramente faccio un esempio fra i molti che mi è piaciuto molto nella mia così esperienza di lettore per esempio il discorso che fanno Robert Fossier nella sua histoire di Moyenage citando poi Delors in particolare cioè la questione della grande rivoluzione del pelo che Delors e Fossier sottolineano il fatto che una svolta capitale nella storia dell'occidente europeo fu la fase in cui le pellicce non furono più indossate col pelo di dentro per scaldarsi ma col pelo di fuori per dimostrare il proprio lusso e il proprio rango un salto di qualità nella civiltà da una condizione elementare devo scaldarmi a una condizione invece piena di significati simbolici rappresentativi sociali molto più importanti che non di benessere ormai sistemato da un aumento del tenore di vita quindi io ho il massimo rispetto proprio alla storia dei cibi per la storia degli scarichi industriali o domestici so benissimo che la storia deve tener conto di questo però sono tanto ignorante di fatto essendomi occupato d'altro da non poterne parlare mentre penso di avere qualche di aver immagazzinato nella memoria qualche esperienza per quanto riguarda la storia dei leader per quanto riguarda alcuni grandi libri che in modo assolutamente dilettantesco ma appassionato ho letto fin dall'adolescenza uno di questi libri che io lessi nell'adolescenza uscì nel 1859 anzi è uno dei grandissimi libri d'occidente usciti in quell'anno uno dei 4 o 5 più grandi anche per la ridefinizione e per l'uso terminologico di una parola cioè mi riferisco al libro capitale di Jacob Burkhart le date di Burkhart sono 1818 1897 storico svizzero protestante nato e morto a Basilea e operante come professore universitario in questa splendida sede accademica in questa splendida città svizzera Burkhart l'opera è la famosa di culture del renaissance in italien questo libro che non è soltanto un straordinario affresco e oggi conta più come un'opera di alto stile che non un'opera informativa certamente data la necessità di aggiornamento che c'è sempre in tutti i libri anche i maggiori questo libro riprende un termine già usato nel 1841 nella sua Histoire de France da Jules Michelet ma in modo più riduttivo Michelet usa il termine renaissance come qualcosa di peculiare alla cultura francese i francesi sono sempre loro non si sbaglia mai ricordo la storia della musica a cura di Roland Manuel una gigantesca un po' come come potrebbe essere per noi quella di Alberto Basso cioè in tanti volumi in cui nell'ultimo volume si sono capitoli come Mechul poi il capitolo su Berlioz poi il capitolo su Masné poi il capitolo su Offenbach poi c'è un capitolo invece l'esorca paese ecco gli altri paesi insomma la musica nelle altre nazioni tutte insieme Verdi, Wagner eccetera qui è molto francese e invece Burkhardt di lingua tedesca protestante svizzero tedesco sottolinea invece il fatto che la renaissance parola francese che viene optata dalla lingua tedesca è una invenzione almeno nel senso più alto del termine tutta italiana e mi piace molto ricordare che la frase con cui si conclude questo libro capitale è il rinascimento italiano è alla testa di tutta la nostra epoca ma la cosa importante permettetemi questa trasposizione che poi indebita e indebita teoreticamente ma insomma mi va di farla ecco è il fatto che nella splendida prosa di questo libro di Burkhardt del 1859 che poi fu tradotto nel 1870 in italiano da Domenico Balbusa a parte l'analisi a parte i dettagli pittorici di cui questo grande scrittore anche narratore che non a caso fu anche autore del cicero cioè del libro guida alle bellezze d'Italia da cui l'uso di dire un cicerone per dire una guida una guida turistica eccetera Burkhardt elabora proprio attraverso questo libro una sua importantissima e semplice dottrina di filosofia della storia che più anti-hegeliana nel secolo di Hegel non potrebbe essere quindi una dottrina che lo poneva in uno stato minoritario quindi possiamo dire nello stato di essere attaccato da ogni parte da storiografi di radice hegeliana che è quella delle dry potenze si basi si basi ho ascoltato dei miei colleghi che sono degli storiografi dei filosofi della storia dire di dry mechte questa è la prova che non hanno letto questo libro in tedesco perché la frase l'espressione precisa di Burkhardt non è di dry mechte ma è di dry potenze in tedesco macht significa il potere significa la potenza come dire una grande potenza una piccola potenza una media potenza i paesi gli stati che combattono eccetera che fanno politica la parola potenz in tedesco significa potenza in senso dinamico quindi o significa la potenza di una pila elettrica o significa la potenza sessuale questi sono i due significati quindi di dry potenze e non di dry mechte sono le tre grandi cariche di energia in ogni senso di energia produttiva e creativa non delle cose che ci sono ma delle cose che fanno essere qualcosa di cui è fatta la storia queste dry potenze sono come tre carte da gioco dice semplificando fin dall'inizio Burkhardt questa sua visione che mescolate insieme danno dei risultati in mani perché tutta la storia del mondo è costituita dalle combinazioni di queste naturalmente le convinzioni sono a due a due non è mai accaduto che tutte e tre le potenze siano alleate perché allora finirebbe la storia o ci sarebbe il paradiso ma sono tutte e due delle realtà impossibili oppure possono essere invece l'una contro l'altro armata a questo punto chi non lo sa tutti lo sapranno ma qualcuno forse non lo sa vi domanderete quali siano queste dry potenze che sono del stat di religion di culture lo stato la religione e la cultura mentre lo stato e la religione sono dice burkhardt delle potenze che immobilizzano tendono a congelare la storia e tendono quindi a creare dei problemi di distonia tra diciamo chi è vivente in una certa epoca e ha a che fare con ciò che è in quell'epoca la religione e lo stato lo stato è sempre inefficiente questo è importante bisogna spiegarlo a chi di dov'è lo stato è sempre inefficiente e la religione è sempre mentitrice non funzionano mai è inevitabile che non funzionino quindi la soluzione di chi voglia cerchi verità e giustizia non può secondo me mi assumo la responsabilità di quello che dico naturalmente non può riferirsi allo stato che è o alla religione che è cioè lo stato reale il socialismo reale la democrazia liberale reale che poi è tutta altra cosa da quella vera eccetera noi sappiamo benissimo che viviamo in uno stato ogni giorno più illiberale ogni giorno più autoritario e non ce ne accorgiamo il che è appunto un'ennesima trama mentre la cultura è un elemento dinamico un elemento che modifica modifica la nostra condizione nella storia ora che questa teoria che fu frutto che fu elaborata nel libro del 1859 che fu sviluppata nelle famose lezioni del 1870 a Basilea in cui c'era anche Nietzsche come ascoltatore e che poi fu edita dopo la morte di Burka nel 1905 nasca appunto in questa annata mi sembra piuttosto importante seconda ancora un po' di tempo seconda considerazione la guerra del 1859 riguarda il rapporto tra diciamo la realtà italiana e uno stato che si era fatto guida politica e diplomatica ed effettiva del mutamento politico territoriale cioè il regno di Sardegna e questo singolare blocco giustissimamente è stato detto prima che fino al 1859 l'impero asburgico fu certamente il più importante stato del blocco conservatore così come la Gran Bretagna era il più importante stato del blocco più o meno liberale però anche lì tutto è da discutere secondo me la presenza di un principio liberale applicato alla politica e al concerto e all'equilibrio politico insomma mi sembra un po' problematica da definirsi ecco il comportamento del governo britannico nei confronti dell'Irlanda non era molto migliore degli episodi dei martiri di Belfiore insomma ecco dal punto di vista poi strategico certamente questo creava un equilibrio un contrapeso sappiamo benissimo che sotto sotto insomma la Gran Bretagna aiutò l'impresa garibaldina mandando delle navi a largo per controllare le mosse borboniche benissimo diciamo che l'Austria ma la vera singolarità dell'Austria anche questo è stato ricordato prima era che non si trattava assolutamente di uno stato portatore di quella di quello stato d'animo di quelle idee e di quella temperie culturale che è rimasta legata alla metà del secolo XIX ai suoi sviluppi cioè una tabe politica e culturale che ha dato esiti paurosi atroci massacri orrori di ogni genere cioè il nazionalismo noi abbiamo avuto noi stessi della nostra generazione abbiamo avuto esempi di effetti di nazionalismo per esempio nelle guerre che hanno devastato l'ex Jugoslavia e il fatto che ci sia stata l'ex Jugoslavia cioè una terra di devastazione e di massacri tribali dimostra ancora una volta l'imbecillità suprema dei pleni potenziari delle potenze occidentali soprattutto Francia e Gran Bretagna nel volere la dissoluzione e lo smembramento dell'Austria e Ungheria dopo la prima guerra mondiale può darsi che questo smembramento fosse come dicono fatale ma io personalmente e sbaglierò nella mia personale filosofia della storia non credo a ciò che sia fatale io credo soltanto alla volontà alla decisione di alcune scelte individuali dalle quali poi si muove secondo il principio del domino una serie infinita di altre decisioni e di altre opzioni non credo che nulla sia fatale così come non credo per esempio che sia fatale la multiculturalità la multietnicità l'invasione dell'occidente da parte di una parte del mondo la desertificazione di quella parte del mondo no io voglio oppormi finché campo assolutamente con tutte le forze possibili ad accettare come fatali questi fenomeni comunque questo stato non fu uno stato fondato su un principio nazionale potrei ricordare soltanto due due piccoli piccoli connotati assolutamente scordinati tra loro uno è il famoso epigramma di uno dei più fedeli interpreti ma anche in senso critico dell'impero asburgico Franz Grillparzer Grillparzer fu veramente la coscienza critica oggi troppo ignorata di quella parte d'Europa era l'uomo che scriveva epigrammi per esempio in pieno impero franco giuseppino contro la mania dell'imperatore di andare a caccia poniamo che derideva la banalità della politica dei ministri scelti da Francesco Giuseppe ma era fedelissimo all'assetto di ciò che era l'impero asburgico e l'altro epigramma uno dei suoi più importanti la dice lunga in questo senso von humanität zur bestialität durch nationalität dall'umanità si arriva alla bestialità attraverso la nazionalità in questo l'impero asburgico fu unico poiché noi sappiamo che in tutto il resto dell'Europa occidentale ma anche se vogliamo in forti e diffusi circoli di opinione pubblica nell'Europa orientale soprattutto nella Russia dell'Izzar c'era un fortissimo impulso di tipo nazionalistico che poi porterà al grande scontro della prima guerra mondiale ebbene nel 1859 all'interno della compagine absburgica c'è un fatto nuovo un fatto che genera una svolta e anche una frana e anche per questo quest'annata è molto importante qual è questo fatto sappiamo che l'impero riuniva diverse nazioni diverse nazionalità e senza che ci fossero fino a un certo periodo nazionalismi a parte certamente e questo riguarda gli italiani a parte le insofferenze degli italiani che vivevano in territori dominati dagli asburgo certamente ma sappiamo che queste insofferenze erano poi poca cosa nel corpo dell'impero lo furono fino al 1859 i magiari erano piuttosto capricciosi ma non tendevano a separarsi dall'impero volevano essi un primato all'interno dell'impero le cui strutture essi desideravano mantenere lo stesso si dica per esempio per le folte ricche e numerose comunità ebraiche che avevano trovato proprio nell'impero una grande possibilità di vita di espansione di sviluppo culturale dopo che erano fuggiti invece dalle aree dominate dalla Russia zarista ma la nazionalità non il nazionalismo la nazionalità forse più fedele all'impero asburgico era stata per molti secoli quella cieca ne abbiamo una testimonianza anche per il fatto che molti ministri imperiali molti comandanti d'esercito molti ammiragli di flotta portavano dei cognomi ciechi boemi ma vedo una certa agitazione troppo tardi sul limite va bene allora cercherò di tagliare altre cose peccato volevo parlare delle fotografie perché sono delle cose piuttosto importanti però ne ha parlato la professoressa quindi impazienza chiudo allora questo argomento ricordando che proprio nella intorno al 1859 esplode nella cultura cieca un fortissimo moto nazionalistico è un fatto capitale nella cultura cieca non abbiamo il tempo di descriverlo non abbiamo neppure il tempo di fare dei nomi potremmo ricordare per esempio Jan Neruda come narratore e un'infinità di altri poeti di somma importanza che in Italia sono poco conosciuti nominiamo soltanto Car Giaro Mirmaka autore di Mai il gruppo dei Maiovci cioè una specie di rivoluzione profonda che alla fine lavorerà sotterranea fino al 1918 e anche qui ci sarà un segno dei tempi e qualcosa di simbolico nel fatto che l'11 novembre del 1918 in una drammatica riunione del Parlamento di Vienna colui che si alzò per primo e chiese e reclamò la dissoluzione dell'impero la fine della monarchia sia stato un deputato cieco frantic sarà un caso però certi fatti hanno un valore simbolico visto che bisogna assolutamente chiudere fra i molti elementi che io avevo individuato come segni di grandi novità non soltanto per la politica territoriale degli stati europei ma per l'animo lo stato d'animo la cultura generale dell'Europa e dell'Occidente in questo anno 1859 non posso trascurare almeno due fatti guardate che in mezzo c'è una zona vuota però che non ho avuto tempo di trattare peccato uno riguarda da vicino se permettete un po' il mio campo preciso di studi cioè la musica il teatro d'opera nel 1859 avviene quel fatto che nella mia visione personale sta alla storia della cultura occidentale non della musica della cultura occidentale come nella mitografia cristiana l'incarnazione cioè la storia dell'umanità si divide in antico testamento e in nuovo testamento il fatto capitale cioè l'incarnazione di cui sto parlando è il Tristan Accord che apre l'opera Tristan di Richard Wagner potrei motivare tutto questo ma mi limito semplicemente a enunciare ciò che penso in proposito tutto è cambiato dopo il Tristan Accord per una serie di piccoli mutamenti che sommati insieme danno un mutamento cosmico nella storia della cultura europea ultimo connotato ultimo sintomo che qualcosa sta cambiando veramente è il fatto che nel 1859 vennero pubblicati questo ha un valore simbolico perché non ebbe un effetto diretto vennero pubblicati gli ultimi scritti di un matematico morto quattro anni prima cioè Carl Friedrich Gauss 1777 1855 in questi ultimi scritti rimasti inediti e quindi pubblicati postumi nel 59 Gauss stava elaborando incredibilmente qualcosa che si sarebbe attuato soltanto molto più tardi cioè attraverso l'uso attraverso l'analisi del calcolo infinitesimale di cui fu uno dei grandi maestri egli stava avvicinandosi ad una concezione cosmica una concezione dell'universo fisico diversa da quella descritta dalle geometrie euclidee stava quindi avviando la cultura scientifica occidentale all'avvento della relatività di Einstein e di che sarebbe venuto dopo Einstein quindi per vari motivi il 1859 è un anno di profonda destabilizzazione in cui nella quale in fondo l'inizio dell'unificazione italiana è una specie di effetto collaterale anche se per noi molto interessante grazie abbiamo ancora meno di un quarto d'ora quindi domande e risposte dovrebbero essere molto brevi entrambe prego prego ecco io ringrazio l'intervento fatto dal professore perché riporta in un minimo di decenza intellettuale la storia del 59 perché dove cosa abbia letto di storia e cosa dica di storia la professoressa a me mi rimane di tutto se venissi da Marte folle applaudenti in Italia si battevano la patria e il patriotismo ma da dove saltavano fuori queste cose non solo non dimentichiamo che in Savoia è una casa che si è istinta con Carlo Felice perché poi soltanto i maneggi della madre di Carlo Alberto ha fatto diventare e Carlo Alberto un governatore francese dell'Italia e dopo basta finisco che dopo ci siano a dimostrazione del fatto che folle applaudenti volevano la patria italiana che non esistevano non sapevano neanche cosa era e contadini del sud del Veneto eccetera aspettavano il times per rendersi conto delle situazioni in Italia ma veramente io penso non so forse la lingua e la traduzione l'ha un po' un attimo fatta deviare perché effettivamente è una storia del genere neanche più i bambini del primo elementare negli anni prima del secolo raccontavano delle cose talmente talmente fantastiche perché se no non andiamo avanti sono cose fantastiche inventate io ho avuto più la sensazione che la professoressa Rai si riferisse alla ricezione che ha avuto l'impresa garibaldina all'estero no 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 ma io ho pensato che lei parlasse di più della ricezione delle imprese di garibaldi all'estero più ancora che in Italia che in effetti lei ha descritto quello molto ma insomma adesso non voglio entrare in questa questione che non è attinente la mia domanda intanto desidero ringraziare entrambi i parlanti per la loro verve derudizione che ci hanno regalato veramente un'ora e mezza adesso di spettacolo di veramente di grande interesse comunque allora la mia osservazione invece la diretta al professor Principe e allora parte una piccola annotazione che riguardo alla parola Heimat paragonata con patria è vero che i tedeschi usano Heimat però hanno anche un termine omologo al nostro patria che è Fataland quindi diciamo a seconda dei casi in alcuni in alcuni casi può esserci pure questo termine che ha la stessa radice diciamo della nostra patria invece quello che le volevo chiedere diciamo riguarda se ho capito bene la sua opposizione alla odierna diciamo tendenza verso la multietnicità e il multiculturalismo ho difficoltà a farla quadrare con in qualche modo la sua rivalutazione invece dell'impero austro-ungarico e la condanna delle nazionalità al suo interno perché in qualche modo l'impero austro-ungarico se non della multietnicità quantomeno del multiculturalismo è un esempio fra i più importanti quindi come dire non capisco bene come lei possa conciliare questo apprezzamento dell'impero austro-ungarico e condanna dei nazionalismi che l'hanno disgregato con una odierna rivendicazione di una forma di diciamo non so se definire nazionalismo ma comunque di sospetto nei confronti della multiculturalità e della multietnicità facciamo grazie va bene grazie mille qualcun altro prego la mia è veramente solo un'unica domanda perché di fronte a quello che qua vi siete parlati addosso e quindi io pensavo che questo tipo di conferenza prevedesse la questione italiana di cui non avete fatto cenno e non avete parlato assolutamente di Cavour che penso avesse avuto un'importanza forse più grande di Garibaldi grazie ancora qualcuno mi pare di no una piccola domanda la farei io ma molto breve proprio il 59 è stato un anno di svolta anche dal punto di vista militare secondo me la battaglia di San Fermo ha portato delle cose con Garibaldi delle novità assolute corrisponde questa idea ecco adesso cedo la parola a voi rispondete un po' non so professoressa se vuole cominciare lei poi professor Principe io ho veramente poco da dire ovviamente è una questione di punto di vista io vengo da fuori vengo dall'Irlanda e vivo in Inghilterra quindi è evidente che vedo tutti questi avvenimenti mi sembra chiaro ognuno di noi vede questi avvenimenti secondo la sua propria identità ci sono magari tre cose diverse che voglio dire molto brevemente la prima è che non stavo e non sto dicendo che gli avvenimenti di 59 e neanche quello del 60 si tratta di un movimento di massa non stiamo parlando di una rivoluzione sociale è che con tutto se noi concentriamo soltanto nel fatto che non è stato un movimento di massa che non c'è stato un enorme sostegno popolare per l'unità d'Italia come storici perdiamo di vista che c'è comunque stato un entusiasmo patriotico poi lo possiamo giudicarlo come vogliamo ma comunque uno guarda la stampa italiana di quell'epoca uno guarda il movimento dei volontari un movimento c'è stato poi resta vedere quanto è stato il più importante se è stato importante o no ma comunque se noi non parliamo di questo non capiamo bene la complessità degli avvenimenti quello è veramente quello che volevo dire sotto lo stesso punto di vista esattamente che bisogna vedere le cose nel loro complesso mi sembra veramente non essendo un esperto proprio per niente un'esperta nella storia dell'Europa del centro-est diciamo soprattutto quello che ho studiato dire la storia d'Italia della Francia mi sembra assolutamente fondamentale rimettere la storia dell'Austria dentro la storia d'Italia dell'Italia dell'Ottocento e quindi parlare infatti degli avvenimenti del 59 dal punto di vista da Vienna mi sembra assolutamente fondamentale infatti quando abbiamo parlato di questo festival col direttore del festival io che ho detto mi sembra veramente importante che ci sia una persona che può parlare dell'Austria e non si parla soltanto dell'Italia e quindi però secondo me la cosa parlo come storica bisogna mettere insieme questi due punti di vista un'ultima cosa sull'importanza dell'Italia e dell'idea della nazione io come ho detto nel mio intervento io non credo che dal 59 in poi che la decadenza o la caduta finale dell'impero austriico sia inevitabile altro che secondo me quello che distrugge definitivamente questo impero è la prima guerra mondiale cioè o il risultato della prima guerra mondiale comunque è la prima guerra mondiale bisogna ricordare che la prima guerra mondiale distrugge anche l'impero russo e distrugge anche l'impero tedesco quindi non è unico questo fenomeno c'è anche c'è una crisi europea internazionale di enorme portata causata dalla prima guerra mondiale e quindi cioè vedere soltanto il 59 c'è come la causa della decadenza dell'impero austriico che sarebbe uno spaglio però è quella l'unica l'ultima cosa che volevo dire a proposito che lei quello che lei ha detto sui ciechi che fondamentalmente l'importanza anche dell'unità d'Italia che è dato un enorme come si dice una spinta enorme a tutte le nazionalità in Europa quindi la nazione se vogliamo la c'è che è stata ispirata dal successo degli italiani cioè mettevano nel 62 fondano queste organizzazioni e indossano la camicia rossa è la stessa cosa in Germania è la stessa cosa in tutta l'Europa dell'est quindi in questo senso gli avvenimenti sono legati perché quello che è successo in Italia nel 59 sotto il punto di vista dell'opinione pubblica internazionale è senza dubbio importante perché dopo di che c'è l'idea della nazione come forma di rappresentanza inevitabile come forma di rappresentanza del futuro che prima non c'è quindi queste cose vengono secondo me legate in questo modo grazie ma cerco di rispondere anche in ordine inverso gentile signore non credo che lo scopo di questo nostro incontro fosse quello di soffermarci su una materia importantissima però ovvia risaputa io mi sarei trovato molto scontento di me stesso se avessi dovuto per esempio raccontare le vicende ordinate della seconda guerra di indipendenza poiché tutti qua tutti le conoscono è evidente che la figura di Cavour è centrale ma è tanto centrale da poter essere collocata tra parentesi poiché noi ci eravamo ripromessi di sottolineare tutto ciò che di solito non viene sottolineato certe connessioni certi dettagli oppure certe correzioni di giudizi ecco questi tre impegni fondamentali ecco non diciamo mi siete parlati addosso perché allora io posso dire a qualunque persona faccia un discorso si è parlato addosso posso andare come si chiama all'apertura dell'anno giudiziario ascoltare il procuratore capo della repubblica dire lei si è parlato addosso poi sento un discorso del papa e dico lei signorazzi che si è parlato addosso non è giusto non so potremmo trovarci in una condizione parliamo cosa vuole poi guardi le dirò una cosa le dirò una cosa io sarei pronto a dire tu ti sei parlato addosso lei si è parlato addosso ad una persona potente e ricca per esempio se sentissi non so Luca di Montezemolo se sentissi non so lo stesso presidente del consiglio direi alto là tu non puoi dire certe cose perché ti stai parlando addosso non puoi parlare di storia di politica di musica di cultura perché queste cose le so io le sappiamo noi tu invece sai altre cose ma noi siamo persone che svolgono delle professioni estremamente povere siamo qui a titolo tutto sommato volontario insomma non è non è il caso di dire ci siamo parlati addosso abbiamo cercato di dire quello che pensiamo io per esempio queste cose le medito in treno mi arrabbio certe volte e dico verrà il momento in cui queste cose che mi stanno qui le dico in pubblico sentiamo come reagisce il pubblico allora invece adesso mi rivolgerò a quel giovane signore che ha detto una cosa non riguardante la forma no la forma il fatto sociale l'approccio sociale ma riguardante invece la materia che ho trattato questo mi sembra importante per quanto riguarda il primo signore che è intervenuto ma guardi io la ringrazio per avermi dato una piccola come dire piccola legittimazione però in realtà io sono d'accordo con la professoressa è vero che si trattava di elite ma si è sempre trattato anche nel Vietnam si trattava di un elite che però trascinava per esempio l'episodio visto che io mi occupo di teatro d'opera soprattutto l'episodio dei del ballo in maschera un'opera andata in scena nel febbraio del 1859 al teatro il 13 febbraio del 1859 venerdì 13 febbraio al teatro Apollo di Roma all'uscita dal teatro dopo la prima rappresentazione di quest'opera che io personalmente non amo molto preferisco altre opere verdiane sulla locandina qualcuno aveva scritto viva Verdi puntando v e r d ed è il famoso viva l'acronimo viva Vittorio Emanuele re d'Italia dopodiché la cosa piacque molto a un certo punto la cosa dilagò prima a Roma e poi in Italia e poi nelle sedi della ben nota società nazionale che era il nervo forte che preparava era il tramite tra l'elite e la diffusione pubblica ed era molto attiva e così divulgò e la gente indubbiamente era delirante tutti scrivevano viva Verdi anche sui muri il che mi dà molto fastidio perché io detesto i graffitari e quindi non voglio che si scriva sui muri anche se uno scrive anche se trovassi scritto ti amo follemente querino principe filmato Nicole Kidman mi darebbe fastidio perché di ma non si scrive sui muri insomma ecco beh vediamo adesso invece rispondo rispondo brevemente al signore che ha fatto una domanda molto e dice non le torna il conto beh ma attenzione le nazionalità che nell'impero asburgico erano legate da un patto solidale e che si comportavano benissimo poi benissimo con molta fedeltà e lealtà nelle battaglie no? combattevano come se fossero state un popolo di un'unica nazione basta leggere per esempio quei libricini d'antiquariato insomma che si trovano ancora le famose poesie militari che nascevano spesso dai soldati soldati stessi più colti che sapevano verseggiare ecco sono di un lealismo assolutamente ingenuo cui lo stato asburgico rispondeva in modo altrettanto leale e io a casa una volta collezionavo un po' di manifesti asburgici poi mi sono stancato ma ho per esempio due manifesti molto significativi uno riguarda il 59 il primo che ho avuto è firmato dal conte Carlo di Valmoden non dal Graf Karl von Valmoden ed è scritto in italiano in un bellissimo italiano come il suo e dice nelle vicinanze del teatro della guerra l'uso di cambane a stormo e l'invio di messaggi sarà passibile di fucilazione chiediamo scusa per il nostro intervento firmato il comandante generale conte Carlo di Valmoden minaccia la fucilazione anche un ragazzino che fosse colto a un certo punto a mandare messaggi fu una cosa e successero dei fatti importanti la famiglia Cignoli per esempio fu fucilata tutta insieme uomini donne e bambini da un terribile capitano austriaco però lo facevano con i dovuti modi con le dovute maniere in italiano in qualsiasi parte dell'impero i manifesti uscivano nella lingua eccetera poi un altro manifesto molto bello che è la dichiarazione della decadenza dello stabile rinforzato consiglio dell'impero giugno 1861 si scioglie questo consiglio che era costituito da 1,2,3 ci sono sei funzionari ciascuno di una nazionalità diversa lo si vede dai cognomi l'italiano si chiama Conte Prato Bevera non sono mai riuscito a individuare il prenome Conte conosco questa famiglia eccetera e al suo posto viene istituito scrive Francesco Giuseppe naturalmente noi Francesco Giuseppe imperatore d'Austria Re d'Ungheria Re di Bohemia Signore di Gorizia Conte di Gorizia Signore Granboiboda della Bucovina della Mazovia della Lodomiri e tutti i titoli e poi dice eccetera 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 dopo così e dichiaro invece nomino così istituito al posto dello stabile rinforzato consiglio dell'impero un consiglio di stato costituito dai seguenti membri 1,2,3,4,5 sono gli stessi dice i compiti del consiglio di stato sono e sono gli stessi i compiti che erano del consiglio dell'impero il tutto in lingua italiana perché questo manifesto evidentemente circolava nell'area italiana le nazionalità rispondevano con un lavoro assiduo veramente straordinariamente efficiente conosciamo l'efficienza per esempio della cosa che fa acqua in Italia della cosa che ci ispira istinti omicidi in Italia cioè la burocrazia il fisco leggete il romanzo di Doderer di Erreuth e Tenfenster per esempio le finestre illuminate dove c'è un funzionario cieco Julius Zihal eccetera la multietnicità che si sta precipitando in occidente è costituita da masse umane che hanno nel loro DNA e non chiedono meglio che di distruggere le nostre strutture statali di sputarci sopra di farci sopra i loro bisogni di diffamarle di denigrarle di cancellarle assolutamente di spazzarle via dalla faccia della terra cioè la differenza è semplicemente macroscopica là c'era uno spirito solidale che a un certo punto fu distrutto dalla distruzione dell'impero e intervennero degli enzimi degli umori centrifughi qui abbiamo invece una massa d'urto che ha un unico scopo e un'unica decisione questa unicità deriva naturalmente dallo stato di ebetudine e di semplificazione estrema indotto da una certa religione che è la religione dei falliti degli ignori naturalmente no? Nietzsche diceva che il cristianesimo è la religione dei falliti e dei mediocri ma quella è la religione delle nullità che credono di trasformare il loro nulla in un tutto con la forza distruttiva distruggendo il tutto è un principio filosofico occorre fare un po' di filosofia quando si esaminano gli eventi storici e io penso che sia così dedicherò l'ultima parte della mia vita a combattere senza quartiere contro la multietnicità contro la multiculturalità e contro questa forma di invasione barbarica dobbiamo chiudere l'una e l'una io ringrazio molto la professore Sarai e il professor Principe perché soprattutto questo lungi dall'essere stato un riassunto del 1859 è stato un'occasione di meditazione con spunti anche non sempre condivisibili grazie a tutti